Ci siete? E allora se ci siamo, poiché ci fa bene alla periartrite e anche alle ginocchia, rialziamoci tutti insieme, dai, tutti in piedi. Che vogliamo fare a questo giro, mi raccomando? Più casino che potete. Con le mani, con i piedi, ma fate casino. Quanto lo sto facendo io in questo momento, vero? Vero? Ovviamente dopo passiamo il cuore, quindi... Scusate, c'è l'ingresso, ed è per questo che noi vogliamo prendere quel cavagnolo che avete mischiato, lo spieghiamo, ok? Facciamo un po' di ventaglino, che con questo ci fa anche abbastanza tristino anche per quello che ho accanto, alziamo sulle braccia, perché ci fa bene alla periartrite e alla ginocchia dolce, come si vuol dire? Giriamo e facciamo questo rumore. Con l'altra mano ci ingilliamo. Ci ingillate con una, girate con un'altra. Tutti insieme! Guarda che non vi stanno sentendo, eh! Più vento fate, più che arriva il calcolo. Vero? Vero? Oh! E ancora! Oh! Ci siamo! 16 giugno 2019, per quest'oggi, doccata per il Margarita, un evento straordinario. Ma sapete perché? Perché è convolato a nozze! Oh! Sotto! Lauta! Posi! Grazie